Vietnam, fumi tossici. Per smaltire i rifiuti li bruciano, quindi plastica, cartone. È stato un giorno dove non ho fatto proprio un cazzo, proprio un cazzo, un cazzo. Benvenuti nuovamente in Vietnam. Lo sentite questo suono? Piove. E la mia domanda è, ma oggi che piove? Ma che cazzo di video faccio? Parliamo di questo. Vietnam, fumi tossici. Nel senso che qui, nelle montagne, però è una cosa che ho visto in generale un po' ovunque, per smaltire i rifiuti li bruciano. Quindi plastica, cartone e tutto il resto appresso lo bruciano. E quindi il pomeriggio, oltre al tramonto, ci avete un bel po' di fumi tossici. Ecco qua. Sperando sempre che il vento non vada nella direzione in cui siete voi. Vi faccio vedere questo posto dove sto. Verde un po' ovunque, pizza che nonostante piove, innaffia. E quella roba lì è la spazzatura. Che incendiano. Oui, 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 piove, piove. Hello! Hello! I love you! Eh, tu vai, eh... Oh no, come vai? I love you! Allora... Va bene. Sortunatamente ha smesso di piovere, quindi lo facciamo qui. Che poi se ci pensate, sì, molto carino come posto, però in Italia ci sono mille posti simili. Cioè, nel senso, se non vi avessi detto che sono in Vietnam, avrei potuto benissimo essere in qualsiasi altra parte d'Italia senza nessun problema. Comunque, prima di cominciare questo video, un'altra premessa. Ho notato che questa camicia bianca fa molto da guru. Di che poi... Boh, papapap. Questo video non so nemmeno come cominciarlo, perché dire la verità, oggi non ho fatto niente. Ma proprio niente, niente. Mi sono svegliato alle 8 e dalle 8 di mattina, fino ad adesso, che è pomeriggio inoltrato, non ho fatto niente. Cioè, non ho aperto nemmeno il computer. Ma proprio è stato un giorno della ricotta di quelli importanti. Un bel giorno della ricotta. È stato un giorno dove non ho fatto proprio un cazzo, proprio un cazzo, un cazzo. Che da una parte so che potevo benissimo fare mille cose diverse senza per forza stare a letto tutto il giorno. Dall'altra ho detto, sai che c'è di nuovo? Lo faccio. Ed è proprio questa la cosa interessante, no? Perché oggi era un altro di quei giorni dove avevo detto, ok, faccio un video super figo, faccio un video questo, faccio un video quello. Perché poi non è tanto bello se porti video tristi, video dove non fai niente, video così, video così. Però la verità è che sono tutte quelle tante sfumature che fanno parte di un viaggio. Cioè, questo viaggio sarebbe un fake assoluto, sarebbe proprio un'inculata da un punto di vista di comunicazione. Se ogni giorno vi portassi dei contenuti sempre fantastici, sempre bellissimi. A parte il fatto che andrei in burnout totale, come già stava capitando. Ma in più non è verosimile. Cioè, non è possibile. E l'ho notato dal fatto che negli ultimi giorni mi sono deciso a pubblicare qualche cosina su Instagram. Nonostante odi Instagram come odio TikTok. E lo so che questa cosa va a mio grande svantaggio. Ma per me sono proprio due social che sono proprio deleteri. Cioè, sono proprio... Li vedo un po' come il tumore del mondo. E cazzo, su Instagram scorri, scorri, scorri. Chi ti motiva. Chi sa sempre palestra. Chi sempre così. Chi sempre felice. Chi sempre... Oh! E... Cama fa. Cioè, dal senso. Bellissimo. Anche perché poi, se uno non comunica la felicità, sarebbe proprio una roba triste. E non ci piace la tristezza. Però allo stesso tempo, sono tutte quelle sfumature che rendono le cose vere. A dire la verità, non so nemmeno cosa farò nei prossimi giorni. Non che nelle altre volte lo sapessi. Ma, adesso ho un paio di video in archivico che voglio far uscire. Però la sensazione è che abbia trovato un posto di tranquillità. Un posto che ho ricercato negli ultimi mesi, che non ho mai trovato. Un posto dove non c'è niente. Cioè, non ci sta niente se non verde. Cioè, il supermercato più vicino è a 10 km da qua. E in questo momento mi sento tranquillo. Tranquillo, senza voglia di far niente. E mi piace questa voglia di non far niente. È fighissima. E ogni tanto ci sta. Praticamente ho fatto questo video per comunicare che oggi non ho fatto niente. Bellissimo. Cioè, l'unica cosa che ho fatto di concreto oggi è stato realizzare questo video. E vabbè. Che bello! Guarda che figo! Così tutto il tempo. E dai. È un po' too much. Sto proprio nel chill. Cioè, non riesco a dire altro se non il fatto che sto nel chill più totale. Non mi viene nemmeno voglia di fare i video dove salto e dico e faccio. Perché... Sto proprio chill. Cioè, come fate a non stare nel chill? Nella non facenza di cazzo totale. Guardate che ho notato che a giorni d'oggi bisogna avere abilità per arrivare a questo livello di nulla facenza totale. Vaffanculo! E a tutti quelli che fanno fame, 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 come è anche sottoscritto quando bisogna. Pam! Pie! Beccati sto chill. Cioè, no, davvero? Adesso facendo sto video mi sto rendendo conto? Facendoci tutto un ragionamento su questo. Questa roba qui che dovrebbe essere la cosa più scontata nel mondo, tranne i fumi tossici che sono lì. Bellissima questa cosa perché c'è il tramonto, il fiume, le casette, tutto verde. E poi ci sono i fumi tossici che vanno verso di là. Ah, ma giusto per darvi una cosa in più. Voi li vedete qua? Ma ci sono anche là. Sono ovunque. Ah, pure lì. Ecco qua, effetto. Questo video lo intitolerò nulla facenza e fumi tossici. Comunque, davvero, è facendo questo video che mi sto rendendo conto che questa che dovrebbe essere, ripeto, lasciamo stare i fumi tossici, una delle situazioni più normali che ci possono mai essere è un lusso. Cioè, è un lusso stare senza fare un cazzo nel verde. Insomma, sapete che vi dico? Se state in città, state lavorando come dei pazzi, state facendo questo, quello e quell'altro, eh? Vi regalo 30 secondi di chill dal Vietnam. Un besito. Un besito. Un besito. Grazie a tutti.